Benvenuti nel nostro canale, prima di iniziare, iscriviti e metti un mi piace. Grazie. Santo Versace, 78 anni, e Francesca De Stefano, 53 anni, si sono incontrati in un momento particolare per l'imprenditore della prestigiosa casa di moda, poco dopo la tragica scomparsa del fratello Gianni Versace. Francesca De Stefano è un avvocato e dirigente presso il Ministero dell'Economia, nonché una storica cliente dell'atelier Versace. Il matrimonio è stato celebrato con emozione e romanticismo, circondato dall'affetto e dagli applausi degli ospiti presenti. La coppia ha dimostrato di avere una forte connessione, testimoniata dai sorrisi e dagli esse. I migliori auguri vanno a Santo Versace e Francesca De Stefano, che si sono uniti in matrimonio con un impegno di amore e felicità. Possano i loro giorni futuri essere colmi di gioia, comprensione reciproca.